Oggi lanciamo i nuovi multifunzioni Samsung per quanto riguarda il mercato business, questa gamma ha particolari innovazioni, oltre a innovazioni dal punto di vista delle performance, doppia lastra di scansione, processore dual core, tecnologia RCP, un particolare vantaggio, una particolare innovazione di questa gamma è l'interfaccia Android che contraddistingue i dispositivi. Come l'interfaccia Android che utilizziamo ogni giorno su smartphone, tablet, possiamo avere questa esperienza grafica anche sui dispositivi di stampa. Abbiamo la possibilità di settare dei Winjet, in questo caso come uno smartphone li possiamo rimuovere, ma allo stesso tempo, con rapidi gesti, possiamo decidere di aggiungere dei Winjet che mi faciliteranno successivamente le operazioni di stampa, di scansione, di invio dei fax o di settaggio della stampante. Inseriamo il Winjet della digitalizzazione, in questo caso io inserendo il mio foglio e premendo il pulsante digital posso effettuare direttamente delle scansioni in maniera molto ma molto rapida. Allo stesso tempo io posso archiviare nel mio multifunzione ed effettuare delle digitalizzazioni spedendole via email su un diritto email di un destinatario riconosciuto o inviare dei fax o scannerizzarli sulla mia cartella di rete. Oltre a digitalizzazioni posso effettuare anche delle scansioni e dell'invivio e fax e ovviamente le classiche copie. Con la funzione copia io posso definire più settaggi, quindi il formato della copia, se può essere in fronte retro, una facciata o due facciate, la riduzione, l'ingrandimento quindi da 25 al 50% o addirittura l'ingrandimento fino al 400%. Le funzioni di finitura e di fascicolazione. Ulteriori funzioni che ci permettono queste multifunzioni e facilmente raggiungibili dalle interfacce grafiche sono per esempio la scansione su dispositivo hardware del multifunzione ma allo stesso tempo la stampa di documenti che sono già preventativamente caricati nel mio multifunzione. Ad esempio un ufficio, i vari dipendenti stampano molto spesso un determinato form per registrare dei clienti, ogni dipendente quindi anziché andare al PC e stampare quel determinato form basta che si avvicini al multifunzione, seleziona il documento che deve stampare e in pochi semplici passi il documento viene automaticamente mandato in stampa senza la necessità di transitare direttamente dal PC dell'utente. E abbiamo il nostro documento che era salvato nel nostro multifunzione stampato in pochi pochi secondi. Capitatività Grazie.